Voga 2016. Spesa. Supermercato di marca o discount? Nel mio caso maggiormente l'hard discount, per tantissimi motivi. Innanzitutto sicuramente perché intorno a casa mia ci sono ben cinque hard discount di cinque grandi catene differenti. Inoltre nel corso del tempo ho avuto la possibilità di provare un po' tutti i loro prodotti alimentari e casalinghi e di determinare un po' qual era la qualità, qual era il miglior rapporto qualità-prezzo. Però non tutta la mia spesa avviene all'hard discount, ci sono ancora alcuni prodotti per cui preferisco scegliere il prodotto, per così dire griffato, il prodotto di marca e quindi vado nel supermercato di marca. Ma diciamo che la maggior parte della mia spesa, la maggior parte della spesa alimentare e della spesa che quanto concerne i casalinghi, avviene soprattutto negli hard discount. Almeno questo è quello che succede con me. Tu invece preferisci maggiormente il discount, preferisci maggiormente il supermercato di marca, fai un po' e un po', ci sono dei prodotti specifici che preferisci prendere al supermercato di marca, ci sono dei prodotti specifici che preferisci prendere al discount, non lo so. Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga2016, noi ci vediamo domani.